Dopo l'annuncio dei giorni scorsi è partita ufficialmente la campagna Dai un'altra vita al tuo tablet, al tuo pc e ad ogni device che non usi più. Con la sospensione delle lezioni per l'emergenza coronavirus, gli istituti scolastici hanno dovuto attivare la didattica a distanza, ovvero una modalità di fare lezioni attraverso le tecnologie informatiche, ma restando a casa. Da qui l'idea di tre consiglieri comunali, Eugenia Marchetti, Angelo Rinaldi e Luca Bianchini. I rappresentanti leghisti hanno voluto promuovere una campagna di solidarietà digitale per raccogliere computer usati da regalare agli studenti che non ne sono in possesso e che hanno quindi enormi difficoltà a svolgere la didattica online. Adderendo alla campagna sarà possibile donare materiale informatico secondo le seguenti modalità. I donatori potranno innanzitutto contattare il servizio istruzione del Mezzabarba al numero telefonico 0382 399 499 negli orari d'ufficio o inviare una mail per concordare la consegna del materiale. I dispositivi informatici dovranno avere alcune caratteristiche descritte sul sito del Comune di Pavia. Tutti i dispositivi saranno quindi formattati dal personale comunale prima di essere consegnati. I beneficiari saranno infine i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado che saranno indicati direttamente da ciascun istituto.